Per l'olio marchigiano questa è stata, ed è un'ottima annata, decisamente migliore dello scorso anno su cui hanno gravato i fenomeni meteo. Sono concordi produttori che hanno iniziato la raccolta delle olive la prima settimana di ottobre e le trasformano ora in olio. Il forte caldo della scorsa estate da un lato ha causato un iniziale stress idrico alle piante, ma al contempo ha impedito alla mosca o le aria di deporre le uova e questo ha mantenuto integre e di qualità le olive. Qui vediamo una delle piante di una varietà tipica marchigiana, la raggia, la vediamo quant'è carica. Ancora il suo indice di maturazione non è ottimale perché non abbiamo pochi chicchi che sono in fase di maturazione e ancora molto dura come polpa. Questa c'è da attendere ancora altri 6 o 7 giorni prima della raccolta. Abbiamo un impianto che facciamo anche l'estrazione del nocciolino, facciamo una separazione della sanza da una parte e la parte legnina la riprendiamo, la asciughiamo e la mettiamo per bruciare tipo per le caldaie o per le stufe. L'ottima qualità da sola però non basta. Bisogna che la politica tuteli maggiormente questi prodotti del territorio, ad esempio attraverso nuovi investimenti, recuperando gli oliveti abbandonati e promuovendo le specialità marchigiane come il cartoceto DOP e il MARC e IGP. Il settore olivicolo marchigiano vale 22 milioni di euro, di cui 4 sono dediti alle esportazioni. Sono 141 i frantoi all'interno della regione. In media, non considerando lo scorso anno, si producono 3.000 tonnellate l'anno di olio. Per dare il dato aggiornato al mese di settembre, la molitura delle olive nelle Marche ha avuto una resa dell'8,8%, pari a 7 tonnellate totali di olio prodotto.